Ciao a tutti! Surge Lati opera a dieci mani per scrittore gruppo rock, il frutto della collaborazione tra La Contrada Merla, il gruppo rock di cui faccio parte, e lo scrittore Wuming2, con il quale ormai da tempo sperimentiamo nuove forme di fusione tra il suono e la parola. Ah, rido! Rido! Rido, giusto per vedere se cambio espressione! Ma allo specchio mi restituisce la stessa immagine fissa, 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 come congelato. Da qualche anno il live di Surge Lati percorre l'Italia raccontando una storia di migrazione che è anche una migrazione interiore, oltre che una migrazione fisica, uno smottamento dell'identità personale. Un ragazzo si risveglia dal coma in una stanza d'ospedale è stato ritrovato in stato di assideramento in fondo a un camion frigorifero, su cui ha attraversato il mare e ha attraversato clandestinamente una frontiera. Ora la sua faccia non ha più espressioni, la sua identità è surgelata, e tutti e tutto tendono a spingerlo verso immagini di sé immobili, stereotipe e soprattutto innocue. Portando Surge Lati in giro abbiamo incontrato dei compagni di viaggio e mi riferisco al gruppo di Graphic News, che è un laboratorio di comunicatori e fumettisti di Bologna, che ha portato il progetto ad allargarsi e a coinvolgere altre persone e soprattutto altri linguaggi. N'è nata così una storia a fumetti, liberamente ispirata al nucleo originario, e che pur restando fedele alla narrazione iniziale, la distorce e la trasfigura. Vorremmo quindi trasformare questa creatura in un vero e proprio oggetto editoriale e per produrlo abbiamo scelto la via della raccolta fondi sul web. Questo crowdfunding però vuole raccogliere attorno ad un progetto anche una comunità di persone, quanto più ampia e quanto più varia, perché Surge Lati può crescere ancora. La rock novel diventerà un CD, mentre il fumetto diventerà un album. E la ricompensa per chi investe in questo progetto li comprende insieme in un'unica confezione, al cui interno ci sarà anche il nome di ogni singolo co-produttore proprio come segno tangibile di questa impresa collettiva. La rock novel e il fumetto attendono adesso solo di diventare un oggetto concreto, grazie a questa raccolta. Ecco perché ti invitiamo a produrre con noi Surge Lati e ad incidere il tuo nome tra i co-produttori di questa storia. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.